Per la norma nazionale Covid-19 tornano a salire i casi, domina la variante Eris. Tornano a salire i contagi e i morti da Covid-19 in Italia, così come il tasso di positività. Nell'ultima settimana del bollettino, che va dal 31 agosto al 6 settembre, è stato del 12,6%, 2,1 punti percentuali in più rispetto al 10,5% del periodo 24-30 agosto. I casi dell'ultima settimana sono stati 21.309 in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana e 94 decessi con aumento del 45% circa rispetto ai 65% del periodo 24-30 agosto. In relazione all'aumento dei contagi nelle ultime settimane nel nostro paese, l'indicazione che arriva dai presidi e ai professori e di degli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola. Lo ha annunciato Mario Rusconi dell'Associazione Presidi, che ha poi spiegato in molte scuole a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Domina intanto la variante ELSA. Abbiamo nuove varianti di Covid-19 che stiamo monitorando, ma nessuna sembra più preoccupante del solito, scrive Fabrizio Maggi, direttore dell'Unità di Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell'Istituto per le Malattie Infettive Lazio e lo Sparanzani di Roma, in un post su Facebook. Il virus ha preso la direzione dell'adattamento verso il suo ospite, cioè noi, e questo anche grazie alla copertura vaccinale e all'unità ibrida, non può che tradursi in una malattia più blanda nelle persone giovani e sane. Vaccinare anziani e fragili invece continua ad essere importante mentre vediamo un po' di rilassamento su questo fronte. Grazie a tutti!